Molto luminosa, come ho detto, appunto, perché uno esce di là in questa grande luce, la cupola con questa grande luce, ed è interessante vedere lo stile, perché non è più barocco, non è nemmeno deoclassico, ma è di transizione, è richiamato marocchetto lombardo, ed è bello, soprattutto, questo contrasto tra la luminosità della chiesa e l'oscurità di questi marmi, che risaltano molto bene. I quadri sono tutti del 1700, ad eccezione di pittori più o meno famosi. Questi quadri sono importanti, perché provengono, insieme ai teschi, dalla chiesa di San Giovanni del Decollato alle Caserotte, sia quello che questo, infatti si vede che sono più puliti, intanto, perché questi, da quando l'avevano fatti, non l'avevano fatti restaurati. E perciò sono interessanti, perché l'ha fatto il palo da Caelina, il giovane, sembra, perché sono venuti molti a studiarli, ma sembra che fosse il palo da Caelina, il giovane, che era un bresciano, nel 1480 circa, l'ha fatti, ed era allievo di Marco D'Oggiono, che in sua volta era allievo di Leonardo da Vinci. Infatti, quello specialmente è vagamente nonardesco, se guardate il fondale, la parte di quel paesaggio molto. E qua invece l'altro, si vede San Giovanni Decollato, con la testa decollata, e con il corpo trovato stranamente rigido, che non si è passato nemmeno dalla morte. Quindi questi due quadri sono del 1500? 1480 circa. Ed è interessante questo altare, perché nell'esercito spagnolo, dedicato molto alla Spagna, c'era l'esercito, c'era molti militari, erano i siciliani e la montagna. Per dare anche loro la possibilità di pregare, in caso unico delle chiese Lombardi, hanno dedicato l'antare ai meridionali, per esempio quella è Santa Rosalia, che è la patrona di Palermo. E sotto ci dovrebbe essere un busto di San Gennaro, che non lo mettiamo perché ci sono una patroia, la prendiamo fuori solo il 19 settembre, quando c'era un scelimento di San Gennaro, che l'abbiamo, sì, l'abbiamo, ed è particolare, un San Gennaro a Milano. Bisognerebbe farne una coppia, però poi rubano anche quella. Beh, comunque è destino di un santo per napoletani, parla fine. Questo è anche molto vecchio, si vede, l'unico dove c'è San Bernardino, perché il ritratto di San Bernardino è in Sacrestia, che era esposto a non si sa dove, prima di restauri, e adesso è là e il rettore non ci pensa di rimetterlo, loro tanti chiedono, infatti, non c'era nemmeno il San Bernardino, il San Bernardino è quello lì, il secondo da destra. Quello con il cappellone da vescovo? Con il mano? Con il cappellone da vescovo? No, quello lì, sento me lo gioco. Ah, secondo da destra, qui, ah sì, quello con l'ostia, con l'ostia gigante. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.